Ciao ragazzi, Ivano Arledinizio Monza, felpa del 120esimo anniversario, va bene andare in moto perché ha le protezioni semirigide, guardate più bella, cappellino 120esimo anniversario, usato fresco fresco appena arrivato, è un 883 Custom del 2009 nella colorazione Ember Red, la moto è completamente originale, guardate com'è costruita, ha percorso 39.000 km, è già gommata nuova, è già revisionata, la vendiamo garantita, 6.900 euro, completamente di serie, monta i ferri salvavisacce e il paramotore originale Harley Davidson, 883 Custom, 883 di cylindrata, ovviamente ha rimpianto antifurto, è bellissima ma particolarmente ben costruita, anche questa durerà poco, vi aspetto in concessionaria, dai che arriva la primavera, dai che ho la motoretta per voi, ciao da Ivano Arledinizio Monza, a presto